Un uomo entra nella sede del Tribunale di Milano armato e uccide tre persone. C'è un problema sicurezza nel nostro paese? Siamo con l'onorevole Stefano D'Ambroso, questore della Camera dei Deputati e a lui chiediamo se c'è una falla nel sistema sicurezza italiano. Diciamo che oggi bisogna esprimere prevalentemente grande apprezzazione e cordoglio vittime della follia di un singolo. Associare il tema della sicurezza Expo a un episodio di follia singola oggi mi sembra una speculazione prevalentemente politica di cui ho sentito in aula e che non ho condiviso obiettivamente. Quelle stesse persone che oggi hanno per prima aperto il tema della sicurezza Expo e dimenticandosi invece della maggiore attenzione da dare al singolo episodio appartengono ad uno stesso gruppo politico che non più di due anni fa occupava senza armi evidentemente il Palazzo di Giustizia di Milano per protestare contro delle sentenze del loro leader politico, relative al loro leader politico, che non condividevano. Questo è un modo che gli appartenenti a un palazzo così importante, i rappresentanti del popolo non dovrebbero permettersi di fare, ma rispetto chi li ha fatte, perché tutto sommato si delegittima fortemente un'altra istituzione. Occupare in quel modo un Palazzo di Giustizia apre la via a una pluralità poi di atteggiamenti che esprimono il dissenso nei confronti di quel palazzo e nei confronti di chi opera in quel palazzo. Ecco, tutto questo va considerato, così come va considerato che sicuramente ci sono stati anni, gli ultimi due anni, dove la politica legislativa è sembrata non sempre fondatamente alla magistratura come fortemente delegittimante il proprio operato. Forse in questo c'era una chiusura corporativa, lo dico da legislatore e non da magistrato, però anche questo può aver contribuito a delegittimare l'operato di chi svolge una funzione fondamentale per la democrazia nel nostro Paese.